Ciao, sono Kiko di B00. In questo episodio di Java in due minuti vi descriverò brevemente i concetti fondamentali di Java. Java è un linguaggio, come già detto nel video precedente, ad alto livello ed orientato agli oggetti. Ciò significa che i dati, quindi in questo caso gli attributi e i metodi, che sono dei blocchi di codice, sono tutti racchiusi in una classe, che potremmo paragonare ad un grande contenitore. Tutto questo insieme forma un oggetto. In ogni caso in un programma in Java possono esserci più classi, ma solo una deve essere chiamata main, in quanto essa contiene le istruzioni per l'avvio dell'applicazione. Java potrebbe essere considerato un linguaggio interpretato, ciò significa che le istruzioni del programma vengono lette e trasformate in linguaggio macchina solamente durante l'esecuzione del programma. Anche se in realtà il codice viene compilato e quindi trasformato nel bytecode, che è una sorta di linguaggio macchina, a parte per il fatto che le istruzioni non vengono eseguite direttamente dal processore, ma dalla JVM, Java Virtual Machine. Per la creazione di questo bytecode, invece, è necessaria la JDK, Java Development Kit, che contiene al suo interno anche i vari strumenti per la compilazione e il debug dell'applicazione. Debug è un termine usato per definire l'attività di trovare errori, appunto bug, nel codice sorgente per poi sistemarli. Comunque sia, i 5 principi su cui si basa Java sono essere semplice, orientato agli oggetti e familiare, essere robusto e sicuro, essere indipendente dalla piattaforma, ovvero poter essere eseguito ovunque, contenere strumenti e librerie per il networking, essere progettato per eseguire codici da sorgenti remote, per esempio pagina web, in modo sicuro. Un lato positivo per chi si vuole avvicinare al mondo della programmazione di Java è il fatto che oltre alle tantissime guide create da utenti come me qui su YouTube, anche la documentazione ufficiale dello stesso è molto semplice seppur dettagliata. Inoltre, sono stati rilasciati anche alcuni libri ufficiali riguardanti il linguaggio. Se il video ti ha aiutato a capire l'argomento, lascia un mi piace, altrimenti lascia un non mi piace. In ogni caso puoi sempre commentare per aiutarmi a migliorare i video futuri.